parco con biancarano isolato sulla destra Luke va a sparare su Matt Hezer che prende la palla ottiene un primo terzo e otto intercetto da parte del di Messi Pack numero otto Luke va in motion evita perfettamente un giustamente la difesa di Ancona è soddisfatta che fa finta di leggere prende un buco interno e indisturbato che va a sviluppare una corsa di nuovo una keeper da parte del che arriva a centrale indisturbato The Dolphins come 10 palla in corner per il numero è posizionato viene fatto lo kick kick che fa colpire è più proiettata nel far correre la palla quindi far correre anche il tempo con questi tre possessi di vantaggio attenzione però adesso c'è una pinta di corsa con il QB che scarica bene sul numero 24 veranda al superman che va a continuare la motion Luke che guarda al centro e viene intercettato dal numero che subito andare in endzone di nuovo palla in endzone e questa volta in corner e viene dice si vede che ha un background ad alti livelli in ambito americano Luke attenzione porta palla bella la corsa bella la corsa a parte di Luke continua a rimanere in piedi grazie a tutti